Ciao ragazzi, oggi vi porto a questo nuovo video, il mio TCBM, uno dei più belli, lo so che ogni volta lo dico, ma veramente, ora vedete perché Fatto con Keldewkiss, che scrive, ciao Simo di Magician, sono felice per le carte da scambio, aspetto le tue Vive i Pokémon, scusa per la scritta, figurati Allora, le carte scambiate sono solo tre, però, cioè, sono bellissime Allora, la prima, Entei X, in inglese, perfetta, sono tutte perfette Direi che l'ordine più o meno è in crescendo di rarità La prima è questa, mi piace un sacco La seconda è Groton Full Heart, che è ruvida sopra, cioè, l'avevo sempre vista in video, ma in realtà è bellissima Forse è la più bella che io abbia questa Ed infine, una carta, che vi faccio vedere solo da sotto Non rara, di più Archeops Shiny Non so come ringraziarlo, veramente Utente molto affidabile, ha avuto qualche problema a spedire, ma poi si è rifatta la grande perché ha spedito ieri e mi è arrivata oggi E lo ringrazio molto e spero di farne altre con lui Iscrivetevi perché è un utente molto affidabile, onesto e anche simpatico Grazie 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 Grazie